... Incidente nella mattinata di mercoledì 16 aprile intorno alle 6 sulla Piedemontana, strada provinciale 565, poco dopo l'imbocco sul territorio di Salassa. Coinvolta una Fiat Panda condotta da un uomo di Busano e un Audi A3 con a bordo un giovane di San Giorgio Canavese. Entrambe le vetture provenivano dalla strada provinciale 460 e si stavano immettendo sulla Piedemontana. L'Audi è impattato contro la Panda colpendola su un fianco, quindi finita sulla corsia opposta dove si è ribaltata ed è carambolata sul prato che costeggia la carreggiata, atterrando e terminando così la sua corsa sulle quattro ruote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobili di Ivrea per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica. Fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Fortunatamente entrambi i carabinieri del nucleo radiomobili di San Giorgio Canavese. Fortunatamente entrambi i carabinieri del nucleo radiomobili di San Giorgio Canavese. Giorgio Canavese. Fortunatamente entrambi i carabinieri del nucleo radiomobili. Biogine del nucleo radiomobili Parto diο